Tra di loro questa mattina in aula a Bari c'era anche Roberta Nigro, assunta a Mediaset dopo aver partecipato ad una cena a Palazzo Grazioli, e dove lavora ancora oggi. Il 5 settembre 2008, a riferito la Nigro davanti ai giudici, ho partecipato a una cena a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi, George Clooney, Eva Cavalli e un'altra decina di persone, tra cui Giampaolo Tarantini. Al termine della cena il presidente si sedette vicino a me e cominciamo a parlare, faceva così con gli ospiti che non aveva mai visto, all'improvviso si avvicinò a noi Sabina Beganovic, che fece una scenata di gelosia e mi aggredì, disse cose parecchio pesanti, del tipo che fai qui a dare retta a questa puntini puntini. Dopo la scenata della Beganovic, ha ricordato la Nigro davanti alla corte presieduta da Luigi Forleo, Berlusconi si è vergognato, si è sentito in difficoltà per tutta la serata. La ragazza ha raccontato tutti i particolari della cena, qualcuno ballava e altri chiacchieravano, era una festa. Il presidente Berlusconi ci offrì una stanza, ha continuato, perché non avevamo un posto dove andare a dormire. Con il presidente siamo rimasti a chiacchierare. Nella camera da letto c'erano, ha riferito sempre la Nigro, lei con la sua amica Sonia Carpentone, Berlusconi e un'altra ragazza, che il presidente accarezzava con dolcezza e le sussurrava qualcosa. Noi con il presidente abbiamo solo chiacchierato fino alle 6.30 del mattino, ha detto, e poi siamo andate via. La ragazza ha parlato anche dei suoi rapporti con Giampaolo Tarantini, quando lo conobbe nel settembre del 2008 all'hotel dei Russi, prima della cena a Palazzo Grazioli con Silvio Berlusconi, disse alla sua amica Sonia Carpentone che glielo presentò. E questo avanzo di galera da dove è uscito? La Nigro è una delle 14 testimoni chiamate oggi in aula, tra queste Lucia Rossini, la ragazza barese che partecipò a una cena a Palazzo Grazioli, insieme con Patrizia D'Addario e Barbara Monterreale, come testimoniano le foto che le ragazze scattarono in uno dei bagni della residenza romana di Berlusconi.